Salve ragazzi, informazione velocissima. Allora, visto le vostre preferenze, diciamo, la prossima live, che sarà sempre lunedì sera, andrà a concludere la, diciamo così, la serie relativa ad Engine World. Diciamo che finisce il capitolo, ok? Quindi ci sarà un altro episodio, ci sarà un'altra live relativa a questo. Avete votato in tanti, avete dato la vostra preferenza e vi accontentiamo. Dopodiché, diciamo, il lunedì successivo cercheremo ancora di essere in live, dove andremo a presentare un nuovo gioco che andremo a trattare, una nuova avventura. Questa volta il master sarà Titus, o meglio, scusatemi, Luca, ok? Sarà lui il master, ci presenterà un nuovo gioco e vi presenteremo anche degli ospiti che saranno presenti nella nostra live e ci accompagneranno con tutta questa nuova avventura. Non sono sicuro inizieremo già dalla prossima settimana, perché Luca lo abbiamo messo sotto a preparare questa avventura, per cui ci vorrà, insomma, un attimino di tempo. Però sappiate che comunque il lunedì sera le live ci saranno sempre e comunque, quindi non preoccupatevi ragazzi. State collegati e noi ci vediamo lunedì sera per la live. Ciao ciao ragazzi!